salve a tutti amici di news formula 1 qui da montreal per raccontarvi il venerdì del gran premio del canada dove sono andate scena le prime due sessioni di prove libere del settimo appuntamento del mondiale 2018 il verdi è stato dominato parlando di tempi da max verstappen con la sua red bull che ha ottenuto il miglior tempo sia in mattinata che nella sessione pomeridiana con l'olandese che ha ottenuto il miglior crono nel pomeriggio in 112 198 e siamo circa sotto di sette decimi rispetto alle prestazioni della seconda sessione di libere dello scorso anno quindi anche questa anche qui a montreal si abbasseranno notevolmente i tempi probabilmente rispetto a quanto successo lo scorso anno un light motive che sta andando avanti da tutta la stagione praticamente verstappen ha preceduto raikkonen che ha girato in 112 328 a parità di gomma con la hyper soft e dunque ferrari red bull che sembrano abbastanza vicine con ferrari che poi potrà usufruire di maggiori cavalli di più cavalli durante la qualifica in terza posizione ricciardo in 112 6 anche lui con gomma hyper soft ma ciò che fa paura sono i tempi delle mercedes con emilton che ha girato in 112 777 con la gomma super soft quindi ben due mescole più lenta sulla carta di quella usata dai primi tre e dunque dovrebbe avere un vantaggio utilizzando la mescola prima di due poteva andare tranquillamente sotto all'1 e 12 quinto fettel che ha affaticato non poco con la sua ferrari durante la sessione ha perso anche la prima mezz'ora per riparare la vettura dal contatto con la barriera avvenuto in mattinata e sesto bottas che ha utilizzato invece la mescola ultrasoft ma quello che ha fatto paura è soprattutto il passo cara delle mercedes che sono andate a girare regolarmente con le super soft e le ultrasoft sotto al passo dell'1 e 16 dunque un vantaggio che sembra considerevole nei confronti della concorrenza con ferrari che praticamente ha provato il passo cara solo con raikkonen con fettel sono gli ultimi minuti che è risultata abbastanza lenta rispetto alla mercedes e anche rispetto alla red bull che è sembrata quella la seconda più veloce dopo la mercedes per quanto riguarda la simulazione dei long run dei passi cara dunque la mercedes che si candida al ruolo di grande favorita per questo fine settimana con emilton che ricordiamo che ha vinto sei volte e viene da tre vittorie di fila dunque sembra difficile scalfire il suo dominio su questa pista come al solito dopo i primi sei c'è il vuoto il primo degli inseguitori è stato un ottimo crociano con un'asse in grande difficoltà a monte carlo e anche mattinata che sembra grazie a lui risollevarsi settimo tempo a 1 e mezzo da verstappen davanti alle forze india di ocon e perez e alunso con la mclaren che ancora una volta ha dato un grande ristacco al suo compagno van d'orna eccellente il lavoro di eclerc undicesimo davanti ad art lei magnus ed ulkenberg e quindicesimo tempo per ericsson con l'altra con l'altra sauber sedicesimo come detto van d'orna molto lontano dal compagno di squadra dietro a ulkenberg e davanti e di ero ericsson e ulkenberg davanti a science gasli e ormai le tristemente le williams abbonate all'ultima fila con sirotkin alle spalle di ericsson che completano questa questa griglia virtuale del verdi per il momento è tutto noi ci risentiamo domani per raccontarvi come saranno andate le qualifiche di questo gran premio del canada arrivederci da news formula 1